Prodai, forza ragazzi, ci diamo! Per la nostra campagna non abbiamo badato in spese. Tranne a quelle della corrente, ovviamente. Azione! Oh, attenti! Sta passando l'elefante! È la banda! Eccola! Ma che carine tutte quelle scelmette! Straordinario! Non ho mai visto così tante maggiorenti in piedi su un marino che rotola! E nemmeno voi, dopo tutto. Oh, ecco che arriva la torta. Accidenti, è caduto il cameriere. Vabbè, almeno stanno passando le frecce tricolore! È davvero un peccato che non possiate vedere tutto questo. Ad altronde insegniamo ai nostri clienti a consumare responsabilmente. E quindi perché non fare uno spot al buio? Henelad! Gli altri vi promettono di risparmiare. Noi vi insegniamo a farlo. Davvero! Stop!